Il non voto Il non voto E la crisi purtroppo va ad aprile, nuova flessione per la produzione industriale, ventesimo calo consecutivo. Giù del 2% anche l'export, nostra ancora di salvezza, la peggior performance dal 2009. E nel primo trimestre 2013 in flessione anche il PIL dello 0,6%, meno 2,4 rispetto a un anno fa. In Turchia sale la tensione tra governo e oppositori. Nella notte nuove scontri nelle piazze di Istanbul, Smirne, Ankara. Nella capitale la polizia usa lacrimogeni contro la folla. Ci sono alcuni feriti. Studenti partiti laici chiedono le dimissioni di Erdoganieri. Il primo ministro aveva tuonato. La nostra pazienza ha un limite. E stamani l'esecutivo rinvia l'apertura della borsa. Dunque buongiorno e buona settimana dal telegiornale della Sette. Con i numeri, quelli della partecipazione al voto delle amministrative che sono fermi alla giornata di ieri sera. Ma comunque evidenziano e confermano una tendenza, quella della disaffezione al voto, almeno quasi più di 5 punti rispetto al primo turno. E dunque il ballottaggio che servirà per scegliere soprattutto il sindaco di Roma, ma non solo. In altri 67 comuni si cerca e si sceglie il primo cittadino. Sono numeri che poco fa lo stesso Presidente della Repubblica che ha votato, ha commentato, parlando di una possibile disaffezione al voto, ha detto staremo a vedere quali sono i dati finali, perché lo sapete si vota fino alle 15 di oggi, però non lasciamoci andare ad analisi che potrebbero essere troppo semplicissime. Di fatto però c'è una partita importante, la più importante è quella del tentativo di rimonta di Alemanno nei confronti di Ignazio Marino al primo turno, ma poi c'è un'altra partita, un po' più indietro, perché in Sicilia si vota e si è al primo turno, anche lì ci saranno risultati importanti, soprattutto per il Movimento 5 Stelle. Urne aperte da questa mattina alle ore 7, si voterà fino alle 15 di oggi pomeriggio per il ballottaggio ed in Sicilia per il primo turno delle amministrative. Poi lo spoglio che al di là di ogni risultato difficilmente modificherà quello già acquisito in queste ultime elezioni, il trionfo dell'astensionismo, che nel secondo turno ha toccato il picco più alto. In attesa del dato finale, alle ore 22 di ieri sera, aveva votato il 34% degli aventi diritti, meno 8,5% rispetto al primo turno a Roma, dove si gioca la sfida principale, calo più limitato, meno 5,4%, con l'affluenza al 32,3%. In pratica, nella giornata di ieri, soltanto un elettore su tre si è recato al seggio ed è possibile che alla fine l'affluenza non arrivi nemmeno al 50%. Quasi 5 milioni di italiani sono chiamati alle urne, si vota in 67 comuni ed 11 capoluoghi al secondo turno. In Sicilia si vota invece per il primo turno. Bisogna rinnovare il sindaco di 142 comuni, tra cui quattro capoluoghi, Messina, Ragusa, Siracusa e Catania. Un test importante, questo e delicato, soprattutto per il movimento di Beppe Grillo. Si vedrà se 5 Stelle, che proprio in Sicilia aveva iniziato la sua marcia trionfale, manterrà il primato ottenuto sia alle regionali che alle politiche. D'altra parte, nei ballottaggi del resto d'Italia, i grillini sono oramai assenti, le sfide tutte concentrate tra centrosinistra e centrodestra. Tra quelle più attese, la principale si svolge nella capitale, dove il sindaco Alemanno parte in svantaggio rispetto allo sfidante Marino. Sfida in certissima Brescia, dove al primo turno c'è stato un testa a testa tra il sindaco Paroli, centrodestra, e lo sfidante del Bono. La Lega rischia di perdere Treviso, Gentilini già famoso come sindaco sceriffo. Deve inseguire il democratico Manildo. Attesa infine per Siena, città colpita dallo scandalo Montepaschi, dove per la prima volta, dopo 20 anni di domenio assoluto del centrosinistra, si è finiti al ballottaggio. E dunque, fino alle 15 si vuota, noi saremo in diretta costantemente dalle 14.50. vi ricordo l'appuntamento, come da tradizione, una lunga maratona fino al TG delle 20, condotta da Enrico Mentana, per capire quali saranno i verdetti di questa tornata amministrativa. E dunque, il primo exit poll alla chiusura dei seggi, curato da Fabrizio Masia, collegamenti, come sempre, dai principali centri delle sedi dei partiti, da Roma, dai comitati elettorali, sia di Alemanno che di Marino. Tra gli ospiti in studio, vi ricordo, Stefano Cappellini del Messaggero, Cazzullo del Corriere della Sera, Feltri del Giornale, Gomez del Fatto Quotidiano, e ancora Lina Palmerini del Sole 24 ore e Marcello Sorgi della Stampa. Naturalmente, si andrà a vedere quelli che saranno i numeri e i verdetti di questa tornata elettorale, ma poi ci sono altri conti, conti che interessano gli equilibri interni ai partiti. E in questo senso, in primo piano, c'è naturalmente il PD, il PD che ha passato gli ultimi giorni a cercare di sciogliere retroscena relativi alla possibilità da parte di Matteo Renzi di arrivare alla segreteria del partito. In effetti, il sindaco di Firenze non ha ancora sciolto le riserve, però è stato ben più chiaro nei confronti di Epifani per quanto riguarda i tempi da dettare e le regole, in questo caso, da dettare. Esagerare non aiuta, pensiamo ai ballottaggi. Sarebbe stato questo il commento del segretario del PD Epifani alla sfida di Matteo Renzi. Epifani fissa la data del congresso, gli aveva chiesto il sindaco ieri nel dibattito che ha chiuso la festa festival del quotidiano Repubblica. Renzi chiede una data certa, fine ottobre o al massimo 7 novembre, come dice lo statuto, e regole non penalizzanti, primarie aperte, non come l'anno passato, avverte. Sono le sole condizioni alle quali è disposto a candidarsi segretario. Il segretario sarà eletto entro l'anno, non si andrà oltre, è fuori discussione, sostiene Epifani. Irritato sembra dall'iperattivismo di Renzi in questa fase. Tra presentazioni del libro, oltre la rottamazione, presenze in tv e dibattiti pubblici, quella del sindaco di Firenze ha tutto l'aspetto di un'offensiva già in atto, delle prime mosse di una campagna congressuale. Basta guardare la prima pagina dell'unità per rendersene conto, il PD in effetti si mostra scosso. Renzi punzecchia, non fa bene, non è Superman, replica Davide Zoggia, Bersaniano di ferro, confluito nella segreteria di Epifani. Non sono convinto che Renzi si candiderà, aggiunge, la polemica sulle regole mi sembra capziosa. Insinua quasi che proprio la polemica sulle regole possa essere per Renzi il pretesto, il casus belli sul quale strappare. Eppure, la strategia renziana sembra ormai tutta proiettata sulla conquista della leadership del partito, da compiersi al messaggio dei fedelissimi in accordo e non contro Enrico Letta. È la tesi del patto fra i due, fin qui dipinti prevalentemente come competitor, fino a pronosticare un letta presidente della Commissione europea al posto di Barroso e un Renzi a Palazzo Chigi. Non a caso, Renzi ieri ha profuso lodi proprio alle politiche europee del Premier e al netto di professioni di amicizia personale, ha invece sparso critiche sull'operato del governo in patria. La tesi è che sia troppo condizionato dal programma elettorale del PDL, cioè da Berlusconi. Ma, sottolinea Renzi, se fossi parlamentare voterei no alla sua ineleggibilità. Dobbiamo sconfiggerlo, non eliminarlo. Dopo l'Imu deve essere il PD a imporre la sua agenda, rimproverato a Letta e a Epifani il sindaco di Firenze. La durata del governo, illimitata, purché faccia. E' questo il leitmotiv e anche il pungolo di Renzi. E poi dicevamo c'è il Movimento 5 Stelle con gli occhi ben puntati e fissi sulla Sicilia, ma al di là di quella regione è in effetti il Movimento 5 Stelle fuori da tutte le partite che contano negli altri comuni per cui si è al ballottaggio oggi. Da una parte c'è questo, c'è circa un dimezzamento di voti negli ultimi tre mesi, c'è anche la polemica legata a quei fuoriusciti, è un chiarimento sulle regole e sui comportamenti da tenere che vedrà deputati e senatori del Movimento 5 Stelle a confronto nel pomeriggio. Ma poi c'è soprattutto Beppe Grillo che continua a mettere nel mirino nemici politici per così dire che è stato un weekend in questo senso particolarmente duro per il nuovo Presidente della Camera. Beppe Grillo allunga la lista dei nemici. Ora dentro c'è anche la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Arriva a buonultima dopo il Capo dello Stato, Bersani Gargamella, Berlusconi Psiconano, Enrico Letta Capitan Findus e via, discorrendo fino all'operatore della televisione pubblica mandato platealmente a quel paese durante un recente comizio siciliano. La colpa imperdonabile della Boldrini? Aver criticato Grillo per le sue valutazioni sul Parlamento definito tomba maleodorante della Seconda Repubblica. È una nominata in Parlamento da una coalizione farlocca, da Presidente non legge o non capisce, scrive Grillo sul suo blog. La Boldrini viene invitata a studiare la Costituzione, Grillo sostiene infatti di essere stato volutamente frainteso. Il Movimento 5 Stelle vuole da sempre la centralità del Parlamento, il resto sono balle la sua precisazione. Come al solito, Grillo sul blog mette tutti i collegamenti agli interventi pubblicati. Chi vuol farsi un'opinione può rileggersi quello sul Parlamento dal titolo La scatola di tonno è vuota, così come la replica della Presidente della Camera che si trova nel post Boldrini, studi la Costituzione. Grillo sa solo insultare, non ha dubbi, leader di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendola, mentre il capogruppo PD alla Camera, Speranza, parla di nervosismo dovuto al flop elettorale. Insulti sintomo di debolezza anche per la PDL Gelmini, Grillo è un ferro vecchio nelle mani di Casaleggio, rilancia. Daniela Santanchè. Se la prende con lo staff della Comunicazione 5 Stelle, invece, Vincenza Labriola, la dissidente pugliese che insieme al collega, conterraneo Alessandro Furnari, ha lasciato il partito di Grillo per il gruppo misto. Se ne vanno due lavativi, attenti solo al denaro, la frecciata inserita nel comunicato ufficiale grillino che su Facebook ha scatenato una pioggia di insulti, racconta la deputata di Taranto. Ma il comunicato non è piaciuto nemmeno a tanti ortodossi del movimento. Ne parleranno oggi pomeriggio all'Assemblea dei Parlamentari. I segnali della vigilia sono però di tenore opposto. Le regole non ammettono nessun tipo di deroga, in nessun caso la linea. La linea del nuovo esecutivo da cui non può prescindere il nuovo esecutivo è chiara, l'ha indicata anche il Presidente della Repubblica Napolitano, le riforme costituzionali, ma poi anche tutto quel pacchetto di misure che sono allo studio in questi giorni, l'ipotesi di rimandare l'aumento dell'IVA, la riforma della tassazione sulla casa, ma soprattutto le misure a sostegno del mercato del lavoro, un concetto ribadito questa mattina a Milano, anche dal numero uno di Confindustria che poco fa ha parlato di un cambiamento di passo dell'Italia a Bruxelles, ma di una politica economica da cambiare nel profondo. E ci sono i numeri dell'economia reale, ancora una volta a confermarlo, in questo caso sono quelli che fotografano l'ennesimo calo della produzione industriale. Pensate che per trovare un segno di variazione positiva occorre andare indietro a due stati fa. Ventesimo calo consecutivo. Basterebbe questo dato per far capire quanto si approfonda la crisi che sta attraversando il nostro paese. Il calo in questione si riferisce alla produzione industriale in Italia. Per risalire all'ultimo segno, più bisogna tornare all'agosto del 2011. Per la cronaca, aprile segna un meno 0,3%, meno 4,6% rispetto allo scorso anno. L'ennesima infornata di numeri negativi per la nostra economia che ci fornisce l'Istat, fotografa un paese dove tutti i settori produttivi sono in difficoltà. Per fortuna stride il 4,7% dell'agricoltura, che ovviamente non tiene conto del maltempo primaverile che ha danneggiato e non poco le coltivazioni. Male anche l'export, il nostro cavallo di battaglia visto il fermo dei consumi interni. Le esportazioni hanno subito un calo dell'1,9% nel primo trimestre. E anche qui è record. L'Istat riferisce che si tratta del calo delle esportazioni più grave dal primo trimestre del 2009. Mentre nel primo trimestre il prodotto interno lordo scende dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,4% rispetto al primo trimestre 2012. Se a questo aggiungiamo anche il calo degli acquisti, il quadro della situazione diventa inquietante. Si compra di meno nelle famiglie, le cui finanze sono sotto pressione. Nel primo trimestre la spesa è diminuita di mezzo punto percentuale rispetto al trimestre precedente e del 3,4% rispetto al primo del 2012. Il dato Istat sul calo della produzione ci dice quanto la crisi sia grave e quanto stia colpendo duro alcuni settori, ha commentato il Ministro del Lavoro Enrico Giovannini, a margine dell'Assemblea di Asso Lombarda. E a questo proposito, a concluso, stiamo predisponendo gli interventi che entro giugno avranno delle componenti normative e finanziarie per lo stimolo di nuova occupazione e quindi l'obiettivo è fare il prima possibile. Ed è per conservare il loro posto di lavoro che sono tornati in piazza a protestare, in presidio, gli operai della Indesit delle fabbriche di Fabriano e Caserta. Il piano di razionalizzazione dell'assetto in Italia, 1.425 esuberi, è già partito con relativa delocalizzazione dell'attività in Turchia e Polonia. L'azienda assicura che nessuno verrà licenziato, ma nei territori c'è fortissima preoccupazione, la stessa che c'è in tutti i settori produttivi del nostro Paese. E le prime risposte a questi settori produttivi potrebbero arrivare già in questa settimana. Venerdì i ministri di Economia e Lavoro di Italia, Francia, Spagna e Germania si vedranno a Roma per studiare quanto portare poi all'Europa con quel pacchetto italiano annunciato a più riprese da Enrico Letta che riguarda in particolare la disoccupazione giovanile. Però tutti i Paesi, al di là delle singole politiche, rimarranno tutta l'estate a guardare con occhi particolarmente preoccupati a Germania. Cerchiamo di capire perché. Sarà una partita cruciale per il futuro dell'Europa, quella di Karlsruhe in Germania, dove a partire da domani la Corte Costituzionale tedesca prenderà in esame una serie di ricorsi contro il programma di acquisto di bond dei Paesi in crisi. Piano disegnato, ma mai attuato sinora dalla Banca Centrale Europea a settembre per mettere l'euro in sicurezza in caso di turbulenze o speculazioni. Un vero e proprio esame in realtà non solo per la moneta unica ma anche e soprattutto per la gestione della BCE ad opera di Mario Draghi con due visioni di politica monetaria a confronto. Da una parte c'è la Banca Centrale tedesca rappresentata davanti ai giudici della consulta dal suo presidente Laguerrito Weidmann che chiederà una politica monetaria centrale meno invasiva. Non è certo un mistero che tra tutti i Paesi europei la Germania sia quello che contribuisce maggiormente alle finanze della BCE ed è quello che si è opposto in maniera più ferma all'acquisto dei bond di Paesi in crisi. Tema che divide anche l'opinione pubblica tedesca sempre più proiettata verso le elezioni di settembre prossimo. Dall'altra parte la BCE, che non sarà rappresentata a Karlsruhe dal suo presidente Draghi, ma da Asmussen, uno dei due membri tedeschi del board designato in quanto responsabile degli affari internazionali ed europei. Il quale oggi ribadendo di avere un grande rispetto per la corte tedesca e di non avere alcuna intenzione di dare consigli ad una istituzione indipendente ha voluto comunque chiarire in una intervista alla Bild il suo punto di vista che poi è lo stesso del presidente. Se il programma di acquisto venisse ritirato ha detto questo avrebbe conseguenze notevoli. La BCE, aggiunto, non è sul banco degli imputati. Quando è stato deciso il programma OMT, l'Eurozona ha ricordato era sull'orlo di una disintegrazione incontrollata e l'euro è stato difeso. Del resto basta guardare cosa è accaduto ieri. La notizia diffusa dal quotidiano tedesco Faz sull'intenzione della BCE di mettere un tetto allo scudo antispred ha fatto sobbalzare le cancellerie europee, fortunatamente a mercati chiusi. Potrebbe dipendere anche da questo l'apertura contrastata delle borse questa mattina con Milano debole, finora in leggera perdita e lo spread che veleggia su 2,65. Un arresto questa mattina all'alba dei carabinieri di Olbia ha riportato in primo piano un nome, quello di Graziano Mesina, uno dei nomi più noti del banditismo sardo degli anni 60. Per molti di voi forse è più facile riconoscere come quel discusso mediatore nel sequestro del piccolo Farouk Hassam. Per Mesina questa volta l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Mesina avrebbe avuto il ruolo di capo carismatico dell'organizzazione che importava in Sardegna grosse partite di droga e poi le smistava a gruppi locali. Nell'operazione sono state arrestate anche altre 26 persone. Mesina è stato arrestato nella casa della sorella. I carabinieri lo hanno sorpreso mentre ancora dormiva e fedele al suo profilo di uomo da carattere di ghiaccio ha solo chiesto perché veniva fermato e poi ha seguito senza parlare i militari. Nel corso della sua vita Mesina, che oggi ha 71 anni, ha scontato ben 40 anni di carcere. È stato latitante per 5, agli arresti domiciliari per 11, è evaso più volte e lo ricordiamo perché nel 2004 il presidente Ciampi gli aveva anche concesso la grazia. Andiamo avanti ora con le forze politiche che si confrontano ancora una volta sulla missione dei nostri militari in Afghanistan. un impegno, un'operazione di pace molto discussa che va avanti da ormai quasi dieci anni e il dibattito politico costantemente si riaccende quando a casa torna una salma dei nostri militari. È arrivata questa mattina la 53esima e quella del capitano Giuseppe La Rosa. L'aereo che lo ha riportato in Italia è atterrato alle 9.35. Ad attendere il capitano Giuseppe Di Rosa, 53esimo italiano tornato dall'Afghanistan in una barra avvolta dal tricolore, c'erano la famiglia, le autorità militari, il premier Letta, il ministro della difesa Mauro e il picchetto d'onore della fanfara dei bersaglieri. Secondo un rituale purtroppo ormai consolidato, la barra è stata benedetta dall'ordinario e ha ricevuto gli onori militari. Un mesto e breve corteo ha poi accompagnato il feretro al carro funebre che lo ha portato all'istituto di medicina legale. Alle 16 verrà aperta la camera ardente, alle 18 si svolgeranno i funerali in Santa Maria degli Angeli. Giuseppe Di Rosa verrà infine riportato a casa, a Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, dove si svolgeranno le eseque private. Nel paese dove il giovane capitano dei bersaglieri ha perso la vita, intanto si è vissuta un'altra giornata difficile. Quelli che sentite sono gli spari dello scontro a fuoco andato avanti per ore tra talebani e forze di sicurezza dopo che un commando ha tentato l'assalto all'aeroporto di Kabul. Gli insorti hanno cercato di raggiungere la zona nord utilizzata come base dalle forze dell'AISAF. Del commando facevano parte anche alcuni kamikaze che si sono fatti saltare in aria durante l'attacco. Al termine degli scontri talebani morti erano sette, mentre, come ha confermato anche il capo della polizia di Kabul, non ci sono state vittime tra i civili. Qualche ora dopo, un altro commando ha attaccato un centro di addestramento della polizia a Qalat, nella provincia meridionale di Zabul. Anche in questo caso sarebbero morti solo gli assalitori. Insomma, ad un anno dal ritiro delle forze internazionali la situazione in Afghanistan è più che mai complessa. E a chi, dopo l'ennesima vittima tra i soldati italiani, ha invocato la fine anticipata della nostra missione, ha indirettamente risposto il ministro degli esteri. Il rientro prima della data prevista non è all'ordine del giorno, ha detto Emma Bonino, che ha sottolineato che le missioni internazionali sono un impegno che un paese credibile deve mantenere. Tensione che resta alta, altissima, anche in un altro paese, in Turchia. La tregua non regge quella tra polizia e manifestanti. Una tensione alimentata da una nuova notte di scontri e anche di arresti di manifestanti e della mancanza di pazienza, così definita dallo stesso premier Toghan. Doveva essere il fine settimana della tregua, è stato tra i più violenti dall'inizio della protesta, dieci giorni fa. Il pugno duro di Erdogan, che ieri aveva detto la mia pazienza ha un limite, definito i manifestanti vandali, anarchici e estremisti, ha infatti avuto l'effetto contrario. Ed è ancora una volta la capitale, Ancara, il teatro degli scontri più duri. E questo è quello che è accaduto ieri notte sulla piazza centrale di Kisalai, dove centinaia di poliziotti in assetto antisommossa hanno usato i manganelli, oltre ad aver fatto di nuovo largo uso di gas lacrimogeni e idranti per disperdere la polla, provocando diversi feriti. Ma disordini ci sono stati anche nel resto del paese, da Smirne ad Istanbul, dove tutto è cominciato per una battaglia ambientalista che ben presto si è trasformata in una rivolta contro la deriva autoritaria dell'esecutivo islamico moderato guidato da Erdogan, che ha ordinato in nottata anche l'arresto di decine di persone accusate di avere incitato ai disordini via Twitter. A Istanbul si assiste da una parte alle manifestazioni colorate e pacifiche degli indignados di piazza Tashkim, a cui da qualche giorno si sono aggiunti i tifosi delle principali squadre di calcio, storicamente divisi ma qui riuniti per l'occasione, dall'altra al clima teso di gazi mallesi estrema periferia ascita, dove da tre giorni la tensione è salita alle stelle. Una situazione insomma che rischia di sfuggire di mano al governo che teme la perdita di credibilità nei confronti di Stati Uniti e Unione Europea, alleati decisivi in una fase di straordinaria crescita economica. E questa mattina l'apertura della borsa è stata rinviata ufficialmente per motivi tecnici dopo le fortissime perdite della scorsa settimana. Per questo già nel prossimo weekend l'esecutivo conta di organizzare contro-manifestazioni nelle grandi città per dar via ufficialmente alla campagna elettorale delle municipali che avverranno tra sette mesi. Di fatto ha spiazzato anche il Dipartimento di Giustizia americano che stava aprendo un'inchiesta penale sulla più grande fuga di notizie dell'intelligenza statunitense. La Talpa che ha smascherato il sistema di spionaggio del governo di Obama che per darvi un'idea nel solo mese di marzo ha raccolto qualcosa come 97 miliardi di informazioni molte legate anche ai paesi europei sott'occhio. In questo senso poco fa l'Unione Europea ha espresso preoccupazione. Insomma, questa Talpa ha deciso in prima persona di uscire allo scoperto. Nome Edward Snowden maschio, bianco, 29 anni il nuovo nemico pubblico numero uno dei servizi segreti americani. Parla Snowden, parla da Hong Kong dove ha trovato un provvisorio e forse precario rifugio e spiega perché ha rivelato quel che sapeva. Quando lavori in certi posti e ti rendi conto che certi comportamenti in effetti sono degli abusi ti senti obbligato a parlarne e più ti dicono che non c'è nessun problema più ti convinci che queste cose dovrebbero essere decise dal pubblico non da qualcuno che viene semplicemente pagato dal governo. Snowden è la gola profonda. Glenn Greenwald del quotidiano britannico Guardian è il giornalista che l'ha fatto parlare. Penso che sia contento perché è cominciato il dibattito che voleva scatenare su questa situazione di massiccia sorveglianza planetaria che è stata creata. Pensa di aver compiuto una missione ed è in ansia per quel che succederà ma è stata la sua scelta. Snowden è un ex tecnico della CIA che da qualche mese era impiegato in una società, la Booth Allen Hamilton che lavora per il ministero della difesa americano. Il 20 maggio scorso ha chiesto un periodo di riposo dicendo che doveva curarsi per problemi di epilessia ed è sparito. È ricomparsa adesso a Hong Kong dopo aver messo sotto sopra mezzo mondo con le sue rivelazioni. Due programmi di sorveglianza autorizzati dal governo americano. Uno per raccogliere dati sulle telefonate numeri, durata, ma non a quanto pare il contenuto delle conversazioni. E l'altro il Prisma che avrebbe costretto nove colossi del web a consegnare i dati sull'uso di internet video, audio, email e ricerche. Il Guardian dice che Snowden è in un hotel. L'ex tecnico della CIA dice che ha scelto l'ex colonia britannica ora terra cinese sia pure con uno status speciale perché gli offre più garanzie. Hong Kong ha una tradizione di libertà di espressione diversamente dalla Cina e internet qui non è più controllato di quanto non lo sia nei paesi occidentali. Anche se so che c'è una base della CIA nel consolato proprio qui vicino se vogliono prendermi lo faranno. Eppure è stato proprio Snowden secondo il Guardian a decidere che la sua identità doveva essere resa pubblica per rendere più credibile la sua storia. Hong Kong ha firmato un trattato di estradizione con gli Stati Uniti ma Pechino può bloccare qualunque decisione in merito se pensa che vada contro i propri interessi nazionali. Per gli Stati Uniti comunque da qualche ora Snowden è ufficialmente un criminale ricercato. Chiudiamo con lo sport e da qualche ora la nazionale di calcio è in Brasile pronta a giocarsi la sua Confederation Cup che è quell'antipasto poi del mondiale che si giocherà tra 12 mesi. Il titolo può essere tutti a caccia della Spagna campione del mondo che ha tutte le intenzioni di continuare a vincere ma insomma vedendo quel che ci ha lasciato la domenica sportiva alle spalle seppure gli spagnoli non vincessero nel calcio hanno ben altre frecce al loro arco. Dentro la domenica di due protagonisti dello sport al singolare dentro le vicende di due campioni accomunati dalla stessa lingua lo spagnolo. Rafa Nadal e Fernando Alonso incorniciano sull'asfalto e sulla terra rossa il loro show con cui hanno infiammato Parigi e Montreal. E nel momento in cui le superpotenze del calcio iberico segnano il passo ci pensano loro a dare un sussulto all'orgoglio della Spagna. Per Nadal addirittura una lotta in famiglia con l'amico Ferrer un derby che in realtà non ha mai visto l'alba. Troppo motivato troppo potente Rafa con le sue rotazioni in mancine pazzesche una dittatura dopo la paura di non riuscire a tenere questi ritmi per colpa di quel ginocchio che l'ha tenuto fuori per sette mesi e ancora non ha finito di preoccuparlo. Niente neppure il solitario invasore contrario alle nozze gay però poteva fermarlo nella voglia di dominare il suo torneo quello che adesso lo vede di diritto nella leggenda. Nessuno aveva mai vinto otto volte il Roland Garros altri campioni sono inciampati sull'ultimo gradino. Una corsa verso la gloria cominciata nel 2005 che ha visto solo una pausa nel 2009 e che ieri per Nadal ha avuto la giusta incoronazione da parte di Usain Bolt l'uomo più veloce del mondo. La palla di Rafa ha viaggiato veramente veloce la conquista non solo del successo tangibile ma anche verso quell'intima gratificazione che vale più di tutto per un campione che deve risalire la china. Essere di nuovo competitivo al massimo livello. La sfida con se stesso sicuramente l'ha vinta pure Fernando Alonso che si è liberato dell'incubo di Monte Carlo. Non ha scritto il suo nome come primo nel Gran Premio del Canada che è in Corona Vettel ma è stato un indomito lottatore nella corsa ad ostacoli del Ferrari. È partito ancora una volta dal cono d'ombra al sesto posto dopo l'ennesimo sabato da dimenticare per la rossa. Le prove in qualifica ormai sono un tormento per il Cavallino l'ultima pole sull'asciutto risale al 2010 e c'è tanto da lavorare. Ma lo spagnolo ha firmato il suo capolavoro con una prova d'attacco con i suoi sorpassi millimetrici e perentori con cui ha sconfitto la concorrenza. Si sono dovuti arrendere Rosberg e Weber e alla fine anche Hamilton il più pericoloso. Un alonso perfetto li ha messi KO e adesso è secondo anche nel mondiale a 36 punti da Vettel. Con questo ci fermiamo pubblicità e torniamo tra poco con gli aggiornamenti in nostro lungo pomeriggio in diretta. Un minuto e mezzo dopo le 14 di nuovo insieme di nuovo in diretta vi dicevo del lungo pomeriggio in compagnia dell'informazione della 7 a urne chiuse qualche minuto prima delle urne chiuse 14.50 allo speciale condotto da Enrico Mentana sui risultati dei ballottaggi alle comunali ma anche il primo turno in Sicilia ma prima la nostra lunga pagina dedicata alla cronaca il TG Cronaca e tra le altre cose parleremo anche della mattenata di disperazione prima e di fortissima tensione poi davanti al comune di Ercolano alle porte di Napoli un uomo si è tolto la vita un gesto di estrema esasperazione cercheremo di capire quel che è successo vi lascio dunque a TG Cronaca e noi ci rivediamo domani grazie e buona settimana